È stato lo sguardo il tema del secondo lunedì di quaresima guidato dal Vescovo Armando. Riprendendo in esame il Vangelo che narra l'episodio dell'adultera, il Vescovo si è soffermato questa volta sul valore dello sguardo. La vita spirituale comincia con l'educazione allo sguardo. Lo sguardo è il punto di partenza di tantissime cose nella vita, dalle più belle alle più brutte, storie di amore o di inimicizie. Lo sguardo può trasmettere la luce ma anche le tenebre che vi sono nel proprio cuore. Attraverso lo sguardo abbiamo il potere di inviare energie spirituali potentissime. Ogni volta che si lancia uno sguardo arrabbiato, arcinio e invidioso, si lancia una vera e propria freccia di energia distruttiva verso la persona a cui è rivolto. Quando si è quindi arrabbiati o si è in qualsiasi altro stato negativo ha proseguito il Vescovo, si proietta all'esterno il proprio stato interiore. Al contrario, quando si è felici e positivi, gioiosi e innamorati, si proietta all'esterno una radiosità meravigliosa e guaritrice. Riprendendo in esame il Vangelo in cui viene narrato l'episodio dell'adultera, il Vescovo si è soffermato sul versetto «Va e non peccare più», quasi a dire che la capacità di non peccare più nasce dal perdono ricevuto, perdono che è stato garantito da Dio sulla croce. «Va e non peccare più» ha sottolineato il Vescovo e il nuovo respiro del cuore che Gesù dona alla donna da lui fatta risalire alla vita dal baratro della morte. Come al paralitico al quale era attrapito nel corpo e nello spirito, Gesù ridona il risanamento del cuore prima di quello del corpo. Dio soffre della nostra sofferenza, soprattutto quella interiore, che ci toglie la pace dell'anima e la gioia della vita. Gesù stabilisce una relazione di pace con questa donna, aiutandola a rimettersi in piedi, a camminare nell'armonia di relazione con se stessa, con il Dio della misericordia e libertà con gli altri. Il perdono rimette nella marcia dell'amore e dell'amicizia, chiedere e donare il perdono non è segno di debolezza ma di forza, perdonare è un miracolo più grande di risuscitare un morto e nascere alla vita immortale. È una rinascita e l'uomo giusto non è chi non commette peccato ma chi perdona come il padre. La somiglianza a Dio nasce nel perdono. Il Vescovo si è poi soffermato sul peccato e sulla riconciliazione, dal cuore che si deve operare la conversione per vincere il peccato e ritornare al Signore, perché il peccato schiavizza, intristisce, opprime, conduce alla miseria dell'anima, ma Dio ci dona la capacità di amare attraverso il suo perdono e la sua misericordia. La riconciliazione ha lo scopo di situare il peccatore nella condizione battesimale e degno di partecipare al convite eucaristico. La riconciliazione ha lo scopo di situare il peccato, ma Dio ci dona la capacità di amare attraverso il suo perdono e la sua misericordia.